L'economia circolare e la sostenibilità al Marconi si fondono con la meccanica e la manualità di 25 alunni che hanno ridato vita a centinaia di biciclette destinate alla rottomazione. Il laboratorio iBike è partito due anni fa grazie a un contributo della Regione. Il progetto ha varie funzioni, il recupero delle abilità manuali, un servizio alla comunità perché comunque queste biciclette andrebbero dismesse completamente invece alcune parti vengono recuperate, riaggiustate e poi l'aspetto anche del lavorare insieme, lavorare in gruppo. Un lavoro portato avanti da due insegnanti e due tecnici. Saloghiamo per sapere che tipo di bicicletta è, che modello è, dopodiché i ragazzi con i tecnici valutano se la bicicletta vale la pena di tenerla così com'è o comunque aggiustarla oppure se è proprio in condizioni non recuperabili e quindi viene destinata alla distruzione. Se la bicicletta è buona si va a vedere che pezzi vanno sistemati, che cosa devono cambiare i ragazzi e quindi ogni ragazzo a coppie o a due, tre al massimo si mettono insieme e lavorano su quella bicicletta cercando di portare a termine tutto, quindi dal cambio al freni, alle ruote. Il ricavato delle vendite sarà destinato ai progetti della scuola, come del resto quello delle attività di riparazione.